Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò una mantellina di cotone, non molto pesante, leggera per questo periodo, secondo me è benissimo, c'è per le serate estive, sopra ha un vestitino e io l'ho comprata rossa ma c'è anche grigia e nera. La mantellina in questione è questa, che non è che si capisce molto, infatti adesso la indosso, che è questa qua, e ha un po' le maniche a pipistello, come potete vedere le maniche sono a tre quarti, il tessuto è cotone e devo dire che non è leggerissimo, però non è troppo pesante e secondo me la sera quando tira un po' di lente è perfetta. Ed è appunto questa qua, non ha bottoni, non ha niente e arriva fin sotto al sedere. E questa qua la vedo molto bene sui vestitini, per esempio bianchi, blu, neri, rosso appunto, ovviamente sul verde acqua non è che ci sta molto bene. Questa qua l'ho pagata veramente poco, ovvero 10 euro, e ho 13 dollari e 66, ed è appunto questa qua, secondo me è molto molto carina. E appunto il video è finito, spero che vi sia piaciuto, vi lascio nell'info box il link se volete comprarla. Un bacione, al prossimo video. Un bacione, al prossimo video.